50 milioni di ristori promessi ancora attesi in Salento per la TAP. In Valle Pelinia la negoziazione dopo il Via Libera mettono tutto SNAM e i nastri di partenza. A disposizione ci sono 5 milioni di euro da spalmare su un territorio ritenuto strategico dalle multinazionali e dal governo che con un colpo di coda ha dato il Via Libera per la realizzazione dell'opera. Più che ristori però si dovrebbe parlare di briciole o di blef. Facendo un rapido raffronto con altre realtà sul tavolo ci sono il 10% di ristori in meno mentre l'analoga beffa si tocca con mano per un intero territorio che ha subito l'autorizzazione a metanodotto e centrale. Due opere contrastate fermamente per circa 15 anni dei comitati cittadini per l'ambiente. Mentre viene da riflettere sull'incissività della politica e sull'oro della regione che si fa garanti, questi comitati bacchettano Marsiglio Iscariota che svela finalmente il suo volto, quello di sensale della multinazionale si legge in una nota. I comitati ricordano che per la fase esecutiva servono ancora altri passaggi, gli scavi archeologici richiesti per il sito dove deve sorgere la centrale di compressione a casepente e lo studio dell'NGV per il metanodotto perché manca nell'intera filiera della procedura. Per questo la battaglia non si ferma.